In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre, il rettore Claudio Pettinari e la prorettrice Barbara Re hanno presentato il bilancio di genere dell'Ateneo. Nel perseguire l'obiettivo di garantire pari opportunità tra uomini e donne, quale elemento chiave per il miglioramento della qualità della ricerca e della formazione, Unicam vuole promuovere la cultura tramite azioni di carattere organizzativo, scientifico, formativo e culturale, tra le quali appunto la redazione del bilancio di genere. Questa giornata di presentazione del bilancio di genere è proprio un'occasione del 25 novembre per ricordare tutte le vittime, donne vittime di violenza e nell'occasione abbiamo presentato il bilancio di genere dell'Università di Camerino che è un documento di programmazione, non solo un documento di descrizione dell'Università da un punto di vista di genere. Abbiamo ormai lavorato da tre anni sul tema di genere, stiamo costruendo un percorso che parte sia dal monitoraggio continuo ma anche dalla formazione, dalla progettualità su queste tematiche ponendo un'attenzione particolare al tema del linguaggio che seppur sembra essere una discriminazione poco importante è di fatto la più diffusa e quella a cui dovremmo tenere maggiore attenzione. Hanno partecipato all'incontro anche la professoressa Paola Inverardi già rettrice dell'Università degli Studi dell'Aquila e la professoressa Aurelia Sole già rettrice dell'Università degli Studi della Basilicata che tanto si sono spese nel gruppo di lavoro della Crui che ha redatto le linee guida per il bilancio di genere degli Atenei italiani. Unicam ha aderito anche all'iniziativa Una dose di libri promossa da posto occupato consegnando i segnalibri realizzati per l'occasione ai colleghi che operano nelle biblioteche di Ateneo.